Signora, si spoghi, no? È finita la partita, si spoghi, chiudiamo con lei la trasmissione. Forse non è finita come voleva lei, però è finita. Ecco, a tipo caffettere, aspetta. La nonna tipo caffettere, perfetto. Non rida, non rida perché non c'è nulla da ridere. L'abbiamo perso in casa contro i labbronici. Guarda quanti siamo e tutti tristi. L'abbiamo perso in casa. L'abbiamo perso in casa. Con c'è la c***a. No, 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 no. Questo forse non si può dire. Secondo, l'albero, se ne è un c***a, eh? E se ne è parito, e se ne è parito, e se ne è parito, quando vado a casa, ma come sei? Ce l'hai con l'albero? Ce l'ho con l'albero, signore, sì. E non mi si permette di fare chi per capire meglio a l'albero, eh? Non puoi caccio la vado. E finita la terza volta. Va bene? Ora, dobbiamo andare a Napoli. Che facciamo a Napoli? I lavori tali? Mi prendiamo a c***o il tuo c***o come lo prendiamo sempre. Ah? Perché? Non si può venire l'ultimo. Nessuno si può venire l'ultimo. Carico Svizio, fin sono tutti. Ah? E cosa dobbiamo fare ora? E qui c'è un pessimismo cosmico. Che dobbiamo fare ora? No, non ho capito. Che dobbiamo fare? No, oggi è mercoledì. E una partita di mercoledì non vale. Non vale. Non vale. E le partite che vale una rumina, c***o. Perché l'hanno fatto a mercoledì? Siamo di giocare. Siamo di giocare la partita. Oggi c'è di fuori. Non direi che c'è di auto. Solo domenica. Come fanno? Solo domenica quando fa la partita. O no? Che cosa fai? Però una bella casa, con una cucina bella. Bella riosa. Bella riosa, una bella cucina riosa e mezza. Ma non ciò che non c'è, sono qua c'è il tuo tuo. Stavo parlando di una buonanotte. E' buonanotte Maria! Anche nonna Maria è arrabbiata.